guarda il fadono ce la faccio? ferma, 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 ferma ferma! salve, buongiorno, non ce l'ho, scrivi non ce l'ho, non ce l'ha non ce l'ha, non ce l'ho libretto della moto non ce l'ho come so? come so? non che scrivi uguale, anche quello non ce l'ha anche, non ce l'ho vabbè qua il faro scusami non ce l'ho come sopra di sopra? i freni? non ce l'ho vabbè non ce l'ho non ce l'ho e qui la freccia non ce l'ho anche questa non ce l'ho c'è la freccia il faro non ce l'ho, la freccia non ce l'ho il libretto non ce l'ho, la patente non ce l'ho e non ho capito, come la mettiamo? come la mettiamo? la devi mettere per forza contro il muro perché il cavalletto non ce l'ho contro il muro il cavalletto non ce l'ho perché il cavalletto non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho provare a mezzo il cavalletto che non ce l'ho si hanno detto poi il cavallo che non ce l'ho si non è morto ora 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 Grazie a tutti.